Però, dimentichiamo un dettaglio, il caso Emilia Romagna è diventato tale, non soltanto ieri e oggi, ma con Bibiano. Cioè la costruzione mediatica e politica da parte del centro-destra su un supposto caso nel quale una parte della sinistra sarebbe coinvolta nel rapimento dei bambini. Questi sono i virgolettati che mi ricordo ci annotavano, quella folla estate. C'era anche la maglia della Borgonzoni, la propaganda della Lega, è diventato un caso nazionale. Quindi il caso Emilia Romagna inizia a diventare un laboratorio politico nazionale, prendendo un drammatico caso di cronaca. Quello è il tema anche che crea il grande incidente tra PD e Movimento 5 Stelle che genera in Di Maio l'impossibilità.